Arriviamo in Europa l'anno prossimo, facciamolo l'Europa lì, facciamolo l'Europa lì, ecco il rituale di mister, concentrazione, le raccomandazioni ormai le abbiamo memorizzate, cioè nel senso che andiamo in campo, diamo il massimo, perché diamo il massimo anche se facciamo due partite e ne passano due, quindi abbiamo due partite per fare più punti possibili per fare la seconda, per fare la semifinale, quindi possiamo andare in finale anche da seconda, ma noi ci andiamo da primi perché siamo fortissimi, ok, abbiamo bisogno di tutti, dal primo all'ultimo e per questo magico gruppo, ippi, uraa, ippi, uraa, ippi, uraa, ippi, uraa, dei guaglio!